Questa è la tercesima edizione della manifestazione ETI, è una manifestazione che si rivolge a un pubblico imprenditoriale, industriale, quindi si rivolge a imprenditori, tecnici, responsabili della produzione e della progettazione. È una manifestazione con molte tecnologie, quindi abbiamo 20.000 metri quadri con 400 espositori e all'interno, oltre la parte espositiva, una parte formativa di tipo concreto. La parte interessante di questa manifestazione è che il pubblico entrando ha quattro grandi focus, per cui immaginiamo un'azienda, una vera azienda con le quattro funzioni, progettazione, ricerca e sviluppo, produzione, affidabilità, misure, testing e consegna. Quindi il visitatore entrando entra idealmente all'interno di un'azienda e può percorrere le varie fasi, quindi all'interno delle manifestazioni intorno a questi quattro focus, le tecnologie e una parte anche di formazione concreta, ovvero al centro di OnlyFocus, un'area dedicata alla formazione pratica. Le aziende oggi sentono parlare di Industria 4.0 e si chiedono che cos'è esattamente, che cosa devo fare. Quindi l'aspetto interessante di questa manifestazione è che venendo in fiera si capisce cosa si deve fare per passare da un modello produttivo tradizionale a uno innovativo, appunto Industria 4.0.